Primo test stagionale della Lupa Roma 2014-2015, una bella vittoria 6-0 in amichevole contro il città di Fiumicino. Sono stati anche i primi minuti per uno dei neo acquisti della Lupa Roma, Luca Tagliavacca. Innanzitutto benvenuto Luca. Benvenuto, grazie. Oggi anche il tuo primo gol con la maglia della Lupa Roma, sicuramente una bella emozione. Sì, sì, sono contento, era molto importante iniziare bene la mia prima partita ufficiale con la nuova maglia della Lupa Roma. E sono contento, le gambe erano un po' imballate, però tutto bene, soprattutto per il gol e la partita che abbiamo fatto. Tu sei entrato nel corso della ripresa, sei un classe 95, se ci vuoi brevemente spiegare il tuo curriculum. Sì, allora ho iniziato da molto piccolo in una scuola a calcio di Genova, Gimora. Poi all'età di 9 anni sono passato al Genova, ho fatto tutta la trafila da 9 a 19 anni, finendo con la primavera e quest'anno è il mio primo anno tra i grandi qui a Roma. Tra l'altro sappiamo che ti sei anche scaldato al Ferraris e stavi per fare quasi il debutto con la prima squadra. Sì, qualche mese fa, l'ultima partita di campionato, ho rischiato di entrare e poi alla fine non è successo, però va bene così. Prossimo test contro il Lecinsia, poi un amichevole di prestigio a Frosinone il 6 agosto e poi si parte con Coppa Italia e campionato, sicuramente la Lupa Roma vuole farsi trovare pronta. Sì, è molto importante lavorare bene ancora in questi giorni, molto duro di ritiro per poi farsi trovare pronti innanzitutto per l'amichevole di domenica prossima, poi col Frosinone e poi iniziare al massimo con la Coppa Italia e campionato. Grazie Luca, complimenti in bocca al lupo. Grazie Crepi.